C.D. Sonlus all'interno del progetto FEI, quindi dei fondi per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, ha organizzato e promosso questi corsi su tutto il territorio campano e articolandoli in vari livelli a seconda del grado di conoscenza dei cittadini stranieri dell'italiano. Con la consegna degli attestati da parte dell'assessore alle pari opportunità Giuseppina Tommasielli si conclude il corso formativo di lingua italiana ed educazione civica che ha coinvolto oltre 100 cittadini immigrati di 20 diverse nazionalità che vivono a Napoli. Ad organizzarlo è stata l'associazione C.D. Sonlus, da oltre 20 anni impegnata per favorire l'inserimento e l'integrazione degli stranieri sul territorio. Combattere con lo strumento linguaggio le marginazioni, la marginalità, la diversità e quindi renderli simili dal punto di vista del linguaggio certamente ha un grande valore proprio per la tenuta sociale di una società che va via via diventando sempre più multietnica. Oltre ai corsisti, alla cerimonia in sala giunta hanno partecipato gli operatori e i docenti che li hanno accompagnati nel percorso di comprensione della lingua, fondamentale per l'esercizio dei diritti e delle regole del vivere comune. La conoscenza dell'italiano è la tappa principale dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi proprio perché attraverso la conoscenza dell'italiano si arriva poi a una consapevolezza anche dei propri diritti e doveri e quindi anche una conoscenza della cittadinanza attiva e una partecipazione sociale. L'evento si inserisce nell'ambito del progetto La Lingua da Scoprire che ha coinvolto anche gli alunni stranieri dell'istituto comprensivo Bovio Colletta.